Signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti di nuovo ancora ben ritrovati qua nel solito disordine della mia libreria qui a casa mia, da me, dal mio usuale giubbino metallaro da combattimento e dalla mia gloriosa maglietta vintage dell'Inter anni 70 la bene amata nera azzurra è sempre la bene amata nera azzurra e sempre resterà la bene amata nera azzurra a proposito volevo avvisare gli utenti di questo canale, tutti gli utenti di questo canale che voi siete membri della pericolosa banda del metallaro sì perché un simpatico personaggio di cui abbiamo già parlato più volte nei miei video accusa me di essere un mistificatore inaffidabile accusa voi, miei cari utenti, di essere miei seguaci e mi definisce come un capobanda o come il capo di una banda criminale insomma, mettiamola così, dopo la banda del Gobbo, la banda del Buco la banda Valanzasca, il clan dei Marsigliesi, la Volante Rossa, la banda Cavallero insomma, la banda del metallaro non è che ci stia poi così tanto male insomma, mi ci vedete bene come, non lo so, Metal Mike, la banda Mike la banda Spadoni, la banda Metal Mike, la banda del metallaro suona decisamente bene siatene orgogliosi, siete banditi, siete briganti, siete seguaci di un pericoloso capobanda criminale rendetevi conto? Chiamatemi capo, cazzo, come già fa l'amico Andrea Cividino torniamo seri, ok? Abbiamo detto le nostre stronzate, torniamo seri e torniamo anche questa sera a parlare di quello per cui è nato questo canale con una chicca presata, oserei dire, perché parliamo di questo libro scritto da Elliot Roosevelt accanto a mio padre ovvero sia Elliot Roosevelt, figlio del presidente Franklin Delano Roosevelt che fece da attendente e assistente al padre per tutta la durata della guerra e Elliot Roosevelt ci racconta le vicende allora, mettiamola così, non è un libro che parli di guerra o per meglio dire, la guerra c'entra soltanto di straforo qui si parla delle conferenze a cui partecipò delle conferenze con Churchill, delle conferenze con Churchill, Stalin e con gli altri leader politici alleati fatte da Roosevelt durante la guerra si parla di aneddoti, episodi, si parla di come dire, del rapporto tra Roosevelt e i suoi colleghi Churchill e Stalin la conferenza di Teran, la conferenza di Yalta insomma, un libro che ci racconta una testimonianza di prima mano fresca e, come dire, molto presente su come Franklin Delano Roosevelt affrontò la guerra su come si rapportava con Churchill e Stalin su come Roosevelt immaginava il mondo dopo la guerra e su cosa fare durante la guerra per sconfiggere il nazismo insomma, un libro, questo qui che risale al 1947 71 anni fa ripeto non vi aspettate chissà che cosa perché è pur sempre un figlio che parla del padre quindi logicamente certe cose vengono sottaciute certe cose vengono guardate con gli occhiali rosa certe cose all'epoca veramente non potevano essere dette o raccontate perché coperte dal segreto segreto che sarebbe stato tolto solo molti anni dopo e che avrebbe reso più chiare certe cose che invece Roosevelt non poteva dire e che forse non conosceva nemmeno sia chiaro insomma, una curiosità una rarità praticamente credo che non sia più ristampato qua in Italia da almeno 50 anni però qualche copia come me si trova sulle bancarelle libro interessante libro da leggere come sempre tutti i libri sono da leggere tutti i libri sono da leggere tutti tutti sia per capirli sia per criticarli ok? perché contrariamente a quello che fa qualcuno io i libri che recensisco li leggo li ho letti tutti sia quelli che recensisco in maniera positiva sia quelli che stronco nella maniera più spietata possibile chiaro? e i libri di cui parlo me li sono comparati tutti di tasca mia quindi al sottoscritto non lo paga nessuno per parlare bene o male di un libro e poi oggettivamente parlare bene di un libro stampato nel 1947 e mai più ristampato da almeno 50 anni cioè gente chi cazzo mi paga a me detta com'è perché qualcuno sarebbe pure capace di pensare che quando io farlo bene di un libro lo faccio per interesse personale sto cazzo detta così com'è ripeto tutti i libri di cui ho parlato nel mio canale in questo canale e tutti i libri che vedete qua dietro questa famosa e disordinata biblioteca li ho comprati tutti io con i miei soldi nel corso di 40 anni io sono 40 anni che acquisto libri ok? è la mia vita è una cosa fondamentale della mia vita la lettura io non riesco a stare senza leggere chiaro? e quindi quando posso ne approfitto trovo queste cose trovo le cose che mi piacciono e le leggo come questo libro accanto a mio padre di Elliot Roosevelt un testimone estremamente privilegiato ci racconta il modo in cui Roosevelt gestì gli equilibri gli equilibrismi tra gli alleati tra Churchill tra Stalin e tra se stesso la potenza l'arrivo della potenza dominante che sarebbero diventati gli Stati Uniti la declinante forza dell'impero britannico l'emergente foga dell'orso comunista che stava premendo per uscire dai propri confini insomma un libro che ci è molto utile per capire alcuni retroscena della seconda guerra mondiale un libro che ci è molto utile per capire i rapporti tra i grandi alleati della seconda guerra mondiale un libro che ci è molto utile per gettare uno sguardo privilegiato su certi avvenimenti storici sia chiaro non è che ci sia niente di rivoluzionario è un padre che parla con il figlio un figlio che racconta episodi storie che fa brevi considerazioni sulla capacità politica di quel grand'uomo che fu Franklin Delano Roosevelt tutto qua insomma un libro da recuperare un libro come sempre da leggere perché leggere fa male soltanto alla vostra ignoranza e alla vostra coglioneria e ripeto se lo trovate dategli un'occhiata leggetelo con attenzione come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate perché a me questo libro ripeto è piaciuto va contestualizzato come sempre nell'epoca in cui era stato scritto ovvero sia molte cose non si sapevano perché coperte dal segreto molte cose non erano ancora state come dire elaborate messe in chiaro portate alla luce eccetera eccetera quindi è un libro che a volte risulta come dire un pochino monco tutto qua ma rimane una lettura eccellente rimane uno sguardo molto vivo molto interessante e molto vitale su un personaggio il presidente Franklin dell'anno roosevelt raccontato dal figlio nell'intimità e nella ufficialità della sua carica di presidente degli stati uniti d'america insomma ripeto accanto a mio padre di elliot roosevelt trovatelo leggetelo fatemi sapere che cosa ne pensate ripeto è un libro estremamente interessante non perfetto datato indubbiamente ma che vale veramente la pena di conoscere e provare a studiare con attenzione quindi cari signori io ripeto il mio consiglio di procurarvi questo volume accanto a mio padre di elliot roosevelt leggerlo con attenzione e farmi sapere che cosa che cosa ne pensate tanto questi video lo sapete li faccio apposta quindi miei cari signori io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e come sempre vi auguro arrivederci al mio prossimo video buonasera grazie a tutti